Benvenuti in questo secondo video di giornata, è vero non ci siete più abituati ma ogni tanto succede, ogni tanto succede per parlare un pochino di una situazione abbastanza spinosa che sinceramente mi ha fatto un pochino girare i cosiddetti praticamente ho saputo che l'agente di Diavara ha rilasciato un'intervista in questi giorni, anzi praticamente ieri perché la partita è stata domenica sera lamentandosi del mancato utilizzo in campo di Diavara che comunque poi è entrato nella ripresa, questo comunque bisogna sottolinearlo lamentandosi non solo della questione legata a Verona Roma, del fatto che molti hanno accusato lo stesso Diavara quando, e questo è vero, non aveva nessuna colpa dello sbaglio delle convocazioni ma si è lamentato anche del fatto che non ha giocato titolare contro la Juve e con il mercato aperto ne avrebbe parlato con la società per capire un po' la situazione legata al suo assistito allora, premettiamo prima di tutto che gli agenti sono per il 90% dei gran stracciacazzi, scusate veramente il francesismo ma ogni tanto bisogna dirlo perché cercano sempre di fare gli interessi del giocatore creando però nella maggior parte dei casi delle situazioni che rovinano l'ambiente che soprattutto rovinano il rapporto tra il giocatore e eventualmente i compagni di squadra e l'allenatore lamentarsi della questione Verona Roma ci sta, ci sta perché molti hanno creato il caso Diavara quando il giocatore effettivamente non aveva colpe qualcuno si è lamentato di lui perché il giorno della sconfitta Tavolino ha fatto delle storie in cui si allenava con la ragazza ma ragazzi, sinceramente, che cazzo di colpa ha Diavara? Le fa lui le convocazioni? No! Cioè, come se voi giocate in una squadra, i dirigenti sbagliano a inserirvi nella lista e i tifosi insultano te ma che c'entrava Diavara? Veramente, poi solo per questa sconfitta, cioè che doveva fare? Si doveva frustare? Doveva fare le storie in cui si frustava? No, che colpa ha? Cioè, anche se avesse fatto un errore sul campo decisivo per la partita gli errori ci stanno, cioè prendersela con lui in questa maniera mi sembra davvero davvero ingiusto e ridicolo perché la colpa di tutto ciò sappiamo a chi ce l'ha veramente e sappiamo che proprio per questi errori la stessa persona ha deciso di andarsene via prima che lo mandassimo via noi a calci nel culo quindi ci ha risparmiato anche la fatica. Su questo sono d'accordo, quindi su questa prima parte di discorso sono d'accordo Lamentarsi però del mancato utilizzo in Roma-Juve è allo stesso modo ridicolo per motivi diversi ma ridicolo allo stesso modo Innanzitutto, caro Diavara, mi riferisco alla gente ma parlo comunque anche al giocatore tu non sei un giocatore fenomenale, sei un buon giocatore che l'anno scorso ha fatto benissimo soprattutto nella prima parte di campionato, prima del lockdown prima del lockdown era un giocatore secondo me importantissimo per la manovra di gioco della Roma bravo sia a livello fisico sia come recupera palloni e sia come assist man per i compagni del reparto offensivo nella parte finale dello scorso anno non ha fatto particolarmente bene e questo lo sappiamo tutti e col Verona è stato, a parer mio, il peggiore in campo perché ha sbagliato tanti passaggi soprattutto ha fatto certi tiri ridicoli che sono serviti solamente a farci arrabbiare e a stoppare azioni di gioco pericolose della Roma non lo giudico per due tiri, dico solo che è l'emblema di una prestazione sottotono fatta dal giocatore se l'allenatore ha visto che il giocatore non è in forma fisicamente e che quindi serviva magari un altro da titolare contro la Juve che non è una squadretta da quattro soldi tu devi stare zitto e accettarlo, caro agente di Diavara non devi rompere i coglioni perché è stata una scelta magari che non ha portato a grandi miglioramenti perché Pellegrini non ha fatto sta gran partita ma è una scelta condivisibile, non è che ha messo Jack in panchina per far giocare un attaccante della primavera così a caso era una scelta che ci può stare con la rosa attuale della Roma aver messo Pellegrini a centrocampo non è stata una cosa così folle soprattutto se appunto Diavara ha dimostrato col Verona di non vivere un momento di forma straordinario poi che le scelte di Fonseca non siano state precise e perfette al 100% su questo sono d'accordo ma non è stato il problema di aver messo Diavara in panchina cioè non è stato, non gli do la colpa di aver messo Diavara in panchina magari si può dire che avrebbe potuto mettere uno tra Perez, Villar e Kluivert magari poteva togliere quelli davanti un pochino prima perché erano stanchi questo è vero, ma per quanto riguarda essenzialmente Diavara che senso ha lamentarsi dopo una sola giornata in cui il giocatore non ha giocato Diavara, la gente se lo deve mettere in testa, lo sa bene, lo sa bene, non è mica scemo però se lo deve mettere in testa, Diavara è un giocatore buono è un buon giocatore che quando è in forma può essere un valore aggiunto ma come ogni giocatore, come ogni essere umano può vivere momenti negativi, può vivere momenti in cui non riesce a dare il contributo che vorrebbe lui stesso quindi se Fonseca ha deciso, vedendolo allenarsi ogni giorno che con la Juve serviva magari un pellegrini piuttosto che un Diavara tu devi stare zitto, devi stare zitto perché i giocatori devono giocare quando se lo meritano non è che Diavara perché l'anno scorso ha fatto bene allora devi metterlo titolare anche quando magari non è in grado non ha senso, non ha senso e poi queste dichiarazioni rendono sempre di più l'ambiente polemico per fortuna ho visto che tutti quanti lo hanno attaccato diciamo difendendo comunque la scelta di Fonseca perché era una scelta che ci stava nulla di trascendentale, nulla di clamoroso non ha messo Mancini attaccante scusate panculo ecco, posto corona a tutti a parte i scherzi non ha messo madonna non ha messo un pastore attaccante o i bagnez sulla fascia in attacco ha fatto una scelta normale quindi perché lamentarsi di ciò? perché vuoi costantemente rompere i coglioni se ti lamenti delle offese a Diavara per Verona Roma sono d'accordo assolutamente d'accordo ma lamentarsi del fatto che non hai giocato una fottuta partita contro la Juve è ridicolo se da qui alla fine del girone d'andata Diavara gioca due partite ci sta fare il ragionamento ci sta parlare con la dirigenza e dire voglio vedere un po' la situazione legata al giocatore voglio vedere qual è la scelta migliore per il suo futuro ma se tu mi giudichi il futuro di Diavara dubbioso per una partita in cui è entrato dopo neanche non ha giocato è entrato dopo allora veramente vuoi rompere i coglioni e sinceramente se io mi devo trovare un giocatore non ce l'ho con lui ma con un agente che per ogni minima cosa deve andare a battere cassa o in questo caso rompere i coglioni allora mi auguro di tutto cuore che l'affare Diavara-Torreira si chiude il prima possibile adesso non se ne parla più e non so veramente il perché mi auguro che appunto la Roma riallacci i rapporti con la squadra inglese perché un Torreira sarebbe con tutto il rispetto per Diavara un valore aggiunto per il centrocampo della Roma e in quel caso sì che lo vorrei vedere titolare ma uno come Diavara se sta in panchina ogni tanto sinceramente non mi fa né caldo né freddo anzi se non è in forma è giusto che il mister lo tenga in panchina e la gente sinceramente non deve rompere il cazzo un saluto dal vostro gladiatore giallorosso scusate prima per quei starnuti improvvisi ma non ho tempo di montare il video quindi ve li dovete beccare mi dispiace però almeno come si dice è il bello della diretta come disse uno youtuber diverso tempo fa in un video un po' particolare scrivetemi nei commenti se avete capito quale fatemi sapere cosa ne pensate dobbiamo sempre avere i rompicoglioni in mezzo alle palle va veramente non ho parole un saluto e ci vediamo presto per un altro video anzi vi aggiorno anzi vi aggiorno comunque vi ricordo che questa sera alle 21.30 a salvo modifiche dell'ultimo minuto sarò sempre in live sul mio profilo Twitch per giocare al gameplay ufficiale di Crash Bandico 3 e al tempo stesso rispondere alle vostre domande sia legate a quel gioco che in generale al mondo del calcio ciao ragazzi e sempre e comunque forza Roma grazie a tutti Grazie a tutti.